Questo programma è offerto da Tecnocampus Il 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 programma è offerto da Tecnocampus Una mossa che porterebbe lo stipendio Il programma è offerto da Tecnocampus 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 Insomma si racconta la storia La vita di un personaggio Che ha fatto la storia della televisione Del cinema proprio con il suo modo di fare Con la sua verve E soprattutto con la sua presa in giro di se stesso Ma anche di tante categorie E adesso si vedrà che cosa riusciranno A rendere proprio di questo personaggio Lo vedremo E ancora una buona notizia per la Raggi Controordine PM L'intagato Frongia è da archiviare E ancora il maestro di Virginia In pole position per Amma La sindaca e l'avvocato San Marco Nomine in Banca Italia È il giorno della verità Infatti oggi c'è il vertice decisivo E ancora vediamo nella parte bassa della pagina Eccoci qua al raduno a Roma per appassionati Ce l'ho, manca E a quanto pare oggi è figurina mania Infatti quanti di noi non hanno fatto questo gioco da bambini Ossia scambiarsi le figurine E veramente gioire proprio di questa cosa Una cosa talmente semplice da essere Una cosa molto molto piacevole E ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano Vediamo la Repubblica Economia Siamo arrivati all'anno zero Dice appunto così Oggi questo quotidiano Confindustria nessuna crescita nel 2019 Di Maio risponde Hanno ragione Salvini, gufi che sbagliano Il governo diviso Non vara le misure per il rilancio La Lega insiste sulla flat tax E Tria intanto la blocca E ancora vediamo nel commento I gemelli del deficit senza limiti E poi il caso La politica degli affetti sovranisti Anche qui si parla di Matteo Salvini E della sua nuova fiamma Francesca Verdini E ancora si parla di Brexit La sfida di May al suo partito Pronta di mettermi subito Se passa l'accordo con l'Europa E ancora questo è il primo piano Appunto l'uscita della Gran Bretagna Dall'Europa Però senza un accordo Diventa sempre tutto più complicato E allora ancora una volta la May Però senza averne ancora tutti i poteri Che cosa fa? Si ribella a questa situazione Ancora vediamo nella parte bassa Sempre della Repubblica La prima pagina della Repubblica E vediamo l'intervista a Ancelotti Leggemonia Juve Dice non durerà a lungo E questo è l'annuncio che fa proprio Il CT del Napoli Che racconta una vicenda Che sembra essere diversa Da quella che attualmente è la realtà Però staremo a vedere anche questo E vedremo se queste parole Si tradurranno in fatti concreti Oppure sarà solamente un auspicio E ancora vediamo il giornale Prima pagina Economia a rotoli Governo fallito L'allarme di Confindustria Crescita a zero E i vice premier litigano Salvini Gufi Di Maio lo smentisce Siamo preoccupati Insomma Vediamo che l'Italia è al palo La crescita del PIL Segna zero I dati di Confindustria Smentiscono tutto ciò Che arriva dal governo Sulla ripresa economica E fanno litigare I due vice premier Per Matteo Salvini Infatti gli esperti Sono dei gufi Per Luigi Di Maio Si dice preoccupato Insomma Ancora due facce Di una medesima medaglia In cui Praticamente si raccontano Due verità Che sembrano essere Totalmente divergenti E ancora vediamo La propaganda dell'esecutivo L'oppio dei populisti E andiamo a fare l'analisi Il tracollo del ceto medio Quei malestanti Ecco qua il gioco di parole Una volta erano benestanti Adesso divenuti malestanti Che ormai nessuno Vuole più difendere E ancora niente sviluppo Solo mancette Così il paese Rischia di affondare Sono questi I numeri impietosi Che racconta questa mattina Nel suo articolo Macello Zacche Quella che manca Infatti una politica Per la crescita Il governo In tutt'altre faccende Affacendato Se l'è dimenticata In economia L'esecutivo Giallo Verde Si è mosso Solo verso Una tenue ridistribuzione Con il mini reddito E ancora vediamo Che in apertura di pagina Si parla Dei migranti Pirati Alle porte Clandestini Sequestrano cargo A largo di Malta Si vuocce Ministro dell'Interno Rischia il processo Ed ancora Vediamo Dall'estero Giallo Per l'ennesima volta Sulla volontaria rapita Il giornale Keniano È morta Stiamo parlando Di Silvia Romana Sparita a novembre Ancora Nulla di fatto E nella parte bassa Della pagina Anche qui si parla Della prof arrestata Alla prof di Prato Che ha sedotto Un minorenne Accusata di violenza Indagato adesso Pure il marito Che sapeva E ovviamente Ovviamente Tra virgolette Si è fatto i fatti suoi E ancora Nella parte bassa Della pagina Le mie prigioni Lettere Un letto corto L'ex governatore Formigoni Abbollate i giudici Come un albergo A 5 stelle E infine Vediamo Due notizie Sempre in questa parte bassa Un'intervista A Barbara Mazzolai I robot del futuro Si ispirano Alle piante Staremo a vedere Anche questo nuovo futuro Che ci aspetta Tutto all'inseglia Della tecnologia Ma soprattutto Dei robot Vedremo Se riusciranno Ad essere Così simili Agli esseri umani Da soppiantarli Ma ci stiamo Quasi arrivando E ancora L'intervista Gotti Io Pantani E quel giro Che non posso Sentire Mio E su questo Annuncio Che viene proprio Da questa pagina Del giornale Facciamo una piccola pausa Ci fermiamo qua Ma non andate via Perché ritorniamo Subito dopo Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecro Campus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex San Goben Caserta. Tecro Campus, la soluzione al centro. Grazie a tutti. La parte centrale della pagina è gli industriali. Anche qui l'allarme sull'Italia che è ferma e il governo intanto litiga sulla crescita. L'allarme di Confindustria sul Pila Zero. Colpa delle scelte del governo. Salvini e Di Maio in difesa, abbassate le stime del DEF, slitta il pacchetto Tria. E intanto la nave si dirige su Malta. Si vuole. Il ministro rischia di nuovo. I migranti dirottano ISF e corritori. Non ci facciamo riportare in Libia. E Salvini parla non di persone in difficoltà ma parla assolutamente di pirati che hanno dirottato appunto questa nave e adesso non vuole assolutamente che approdino in Italia. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie. In primo piano vediamo l'editoriale nella parte sinistra della pagina Romano Pro di fare fronte con l'Unione Europea. La sola strada per non essere marginali con la Cina. E nell'altra parte della pagina vediamo di fronte esattamente a destra, oggi l'emendamento, castrazione chimica, il ritorno al Medioevo. E ancora nella parte centrale della pagina eccoci qua domani il vuoto. Vediamo un ritratto della May in questa prima pagina. Corsa contro il tempo per evitare l'uscita arda. E dice May vado via in cambio del sì al Brexit. Insomma tutto pronto per un'uscita che sembra essere ancora in seria difficoltà soprattutto se non ci sono patti concreti. La May si dice appunto disposta ad andare via. L'importante è che si arrivi ad un accordo. E ancora vediamo, ci spostiamo di nuovo in Italia. Stadio, fronte del 9, Movimento 5 Stelle, manca l'interesse pubblico. Sale il dissenso, timori grillini per le penali, archiviazione per Frongia, torna in giunta. E ancora vediamo le altre notizie in prima pagina. Anche qui un trafiletto nella parte bassa della pagina. Indagato il marito arrestato alla donna che ha avuto un figlio dall'allievo 14enne. E ancora le altre notizie sui quotidiani nazionali. Andiamo adesso a vedere il mattino. Come racconta oggi i fatti e partiamo proprio dalle notizie brevi dalla parte alta. Il racconto i napoletani è quell'amore senza confini per il Cilento. E i focus del mattino. San Paolo, il grande gelo, mai così pochi spettatori dal ritorno in Serie A. E questo è un brutto allarme. E ancora il campionato. Insigne è guarito e contro la Roma prenota un posto da protagonista. E intanto vediamo che anche qui l'allarme che viene lanciato è sul PIL. L'allarme è quello degli industriali. Italia ferma e sud sempre più sotto zero. Confindustria, la colpa del governo. Piano per il rilancio. L'Itemovimento 5 Stelle Lega è il lavoro che c'è ma non si trova. Nel mezzogiorno 15.000 posti vacanti. E il grido d'allarme è sul PIL a zero con il sud in ulteriore calo. Ed è di Confindustria. L'Italia è ferma. E gli industriali dicono che è colpa delle scelte del governo. Intanto Lega e Movimento 5 Stelle litigano sui fonti del decreto crescita. Al sud il paradosso di almeno 15.000 posti di lavoro che nessuno accetta. Bisognerebbe andare a vedere effettivamente nei particolari quali sono questi posti di lavoro, questi 15.000 posti di lavoro che non vengono accettati. Soprattutto quali sono le condizioni e quali sono i settori occupazionali. Magari ci occuperemo proprio di questa cosa, però sicuramente si devono vedere nei particolari prima di poterli analizzare e soprattutto di fare una discussione sul perché non si accettano o sul perché non si riesce a trovare questi posti. Ancora vediamo la telenovela infinita della Gran Bretagna. Anche qui l'ultima carta della May. Dite sì alla Brexit e l'Ascio. E questa sembra essere proprio una promessa. E ancora le idee. Il reddito al rallentatore, se avanzano i fondi, usiamoli per investire di qualche giorno fa infatti una prima stima sulle richieste del reddito di cittadinanza. Insomma, sembra che il reddito di cittadinanza non stia andando così come ci si aspettava. Di conseguenza i fondi previsti proprio per questo reddito sembrano essere inferiori rispetto a quello che si era preventivato. Quindi cosa fare di questi fondi? Ecco qua nasce un interrogativo e soprattutto nascono le proposte per poter fare altro. Ma staremo a vedere, saremo vigili e attenti anche su questa situazione. E poi no a ritorno in Libia il mercantile dei soccorritori dirottato dai migranti. Intanto ci vediamo ancora nella parte centrale della pagina. Vediamo quali sono gli altri fatti in primo piano. Il caso l'incendio sotto Chiaia. Sette giorni fa il blackout continua. La Napoli che vive al buio da una settimana. Lo scandalo del quartiere Salotto senza luce. Insomma, uno dei quartieri bene di Napoli che ancora una volta si trova a vivere questa difficoltà. Un buio perenne che sembra non voler cessare l'allarme di chi vive in questa zona e comunque si sente sempre più in difficoltà. Insomma, un appello al governo affinché si faccia qualcosa proprio per la città di Napoli che ovviamente al momento si trova in difficoltà e ha bisogno sicuramente di un sostegno. E ancora vediamo il ministro Buongiorno che paventa questa proposta. Castrazione chimica a chi stupra le donne. L'annuncio shock oggi, l'emendamento leghista se la pena è sospesa e solo per chi lo chiederà. Insomma, da un lato c'è chi urla allo scandalo e soprattutto al ritorno al Medioevo e chi invece dice credo che questa sia la situazione migliore. Voi che cosa ne pensate? Castrazione chimica o no? Questa è una situazione sempre più complicata. Si parla di violenza, ovviamente bisogna vedere tutti i fattori. E ancora vediamo appunto, proprio da qui si vede su questa prima pagina del mattino, chi dice che è una proposta che ci riporta al Medioevo e Shakespeare ce lo insegna a proposito delle buone ragioni. E poi vediamo che di contro si parla del gruppo Agenda Europa, il forum famiglia, la lobby che vuole abrogare il divorzio. Insomma, tanti argomenti di discussione proprio in questo fine settimana. Si parlerà appunto di abrogazione di divorzio, della legge sull'aborto e di tante altre notizie che comunque magari seguiremo un poco alla volta. Ancora vediamo nella parte bassa della pagina, al David Di Donatello, brilla il cinema made in Campania. E questa è una notizia che ci fa tanto piacere. Infatti ai David Di Donatello, gli Oscar del cinema italiano, brillano anche i film made in Campania. Subito il premio alla migliore attrice non protagonista, Marina Confallone. Ma questo anche lo andremo a vedere nei particolari dopo. Vediamo ancora le altre pagine dei quotidiani nazionali. Vediamo il manifesto e vediamo come titolo a questa mattina le notizie in primo piano. E partiamo dall'alto. Eccolo qua. Si parla pioggia di polemiche, il presidente Blangiardo rinuncia al congresso delle famiglie Verona e il sovranistat ci ripensa. E infatti ha avuto appena il tempo di insediarsi, ma il nuovo presidente dell'istan Giancarlo Blangiardo, che cosa ha fatto? Ha già mostrato cosa intende fare dell'Istituto Nazionale di Statistica. Un think that sovranista a servizio della destra di governo. Questo fine settimana, infatti, avrebbe dovuto partecipare al congresso mondiale delle famiglie di Verona nella sessione protezione della vita e crisi demografica. L'annuncio della partecipazione ha generato un coro di critiche. I lavoratori dell'Istat gli hanno chiesto di disdire l'appuntamento per non macchiare la reputazione di imparzialità proprio dell'Istituto. E ancora vediamo la cittadinanza show di Salvini. I ragazzi eroi. Matteo Salvini ha ricevuto ieri al Viminale i cinque studenti del bus di Crema. Li ha portati anche in una gelateria, confermando la concessione della cittadinanza italiana ai due ragazzini eroi, figli di migranti. Poi la stoccata di Maio, che si era preso il merito di averlo convinto. E infatti aveva dichiarato abbiamo fatto cambiare idea a Salvini e lui risponde. Salvini, di punto. Ha risposto no, ho deciso io. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina. Andiamo a vedere come titola l'articolo di apertura questa mattina. Ed eccoci qua a fronte del porto. Mercantile turco con 108 migranti a bordo. Naviga a vista nel Mediterraneo in tempesta. I naufraghi si sarebbero rifiutati di tornare in Libia. La nave fa rotta verso Marta, ma la valletta allerta le forze armate. I Salvini sono pirati criminali. Si scordassero l'Italia. E ancora continuiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani nazionali. Andiamo a vedere questa mattina la stampa. E vediamo che anche su questa testata in primo piano c'è la crescita zero del paese, che inguaia il governo. Il DEF è rinviato. È in certezza sulle tasse da pagare. E ancora vediamo gli altri fatti. Ed eccoci qua. Nave di migranti. Italia e Malta pronte a schierare la marina. E nella parte più bassa le contraddizioni dei politici paladini della famiglia. E ancora vediamo nella parte dedicata a Mattia Feltri. Salvini segreto. Il nostro vice premier Matteo Salvini si è irritato per l'inaccettabile violazione della sua privacy. È stato infatti fotografato al ristorante e al cinema con Francesca Verdini, figlia di Denis e è accreditata come sua nuova dama. Chiedo rispetto, ha detto Salvini. Ognuno va al cinema e al ristorante con chi vuole. Giusto. Certi limiti non andrebbero mai superati. Però dice giustamente tu sei un personaggio pubblico. Ciò che fai in pubblico ovviamente viene ripreso. E sicuramente viene mostrato perché è così che si sol fare. E ancora vediamo le altre notizie. Ci spostiamo sulla parte economica. Abbiamo già visto che siamo all'anno zero per quanto riguarda l'economia. Ma vediamo che cosa ci racconta il Sole 24 Ore. Confindustria. Il paese è fermo. Debito fuori controllo. E ancora vediamo Di Maio da New York. Confermati 2 miliardi per le imprese. E intanto nella parte centrale si parla di territori da rilanciare. Il MIT di Boston infatti che cosa fa? Adotta un borgo in Calabria. E nella parte bassa della pagina bot BTP un miliardo di extra costi. Mentre Visco dice serve una strategia chiara per il debito. E Draghi pronti ad agire se l'economia peggiora. E intanto Volkswagen si alla Ford. No. A F C A. E intanto nella parte bassa della pagina per l'esterometro. Primo invio allargato. E intanto gli editori dell'Unione Europea. Europea ora il giusto compenso ha più forza proprio in merito al diritto d'autore. Di cui tanto abbiamo già parlato nella giornata di ieri. E che comunque adesso cambierà. Almeno così dovrebbe essere. Tutto ciò che riguarda l'informazione. E soprattutto il diritto d'autore. E il copyright che riguarda appunto le idee. E soprattutto le creazioni di tanti. Ma ancora continuiamo a vedere l'economia. Vediamo Italia Oggi. Donazioni anche col cellulare. Piccole somme alle Ollus scalabili dal credito telefonico. Su queste non si paga l'IVA. Ma sono anche indeducibili e indetraibili dalle imposte dirette. Insomma una situazione molteplice. Che comunque rappresenta una seria difficoltà per le Ollus. Che con questo mezzo. Ossia con l'invio di un messaggio dal telefonino. Riescono a reperire i fondi per le proprie attività. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina. Cresce la possibilità che la Merkel prende il posto di Juncker a capo dell'Unione Europea. Attenzione. E intanto vediamo nell'immagine il ritratto. Un bello 0%. Chi sta schiacciando? E questo immaginatelo voi. E intanto Matteo Renzi si prepara a ridiscendere in campo. Ancora una volta. E nella parte bassa della pagina. Blockchain arma anti-evasione. Infatti per l'Ox. Garantire informazioni affidabili in tempo reale. Migliorando la fiducia tra fisco e contribuenti. E questa la strada giusta. E intanto il decretore legge niente più pensione. Ai condannati e ai latetanti. Ed infine sempre nella parte bassa della pagina. Consigliere Movimento 5 Stelle a Firenze. Passa col carroccio a massa. Insomma questi ribaltoni dell'ultimo momento. Queste situazioni controverse che vengono raccontate anche questa mattina dai quotidiani nazionali. Ma adesso ci spostiamo proprio nella parte sportiva. Andiamo a vedere anche che cosa si racconta sul fronte dello sport. E vediamo che nella parte alta del Corriere dello Sport. Roma non fermarti. Malagoa avvisa il Campidoglio. La società ha il diritto allo stadio. L'incertezza è assolutamente inaccettabile. Dossier giallo-rosso. La tentazione di Sarri, Campos o Petrarchi. Per di essere le incognite del mercato. Radiografia di un ritardo che allarma i tifosi. E intanto di che Roma stiamo parlando si pongono proprio l'interrogativo da questa testata. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina. Eccoci qua Mancio Vale Oro. Il coraggio del CT sta cambiando il nostro calcio. In soli nove mesi la scelta di puntare sui giovani talenti. Ha fatto lievitare il valore della rosa e ha riacceso la passione azzurra. E ancora ci spostiamo su un'altra testata sportiva. Come sempre vediamo tutto sport. Ed eccoci qua nella parte alta della pagina. Torna Little Juve. E vediamo una foto che dice tutto. La nazionale si riscopre vincente con un blocco bianco-nero. Bernardeschi, Bolucci, Chiellini, Ken, Perin, Spinazzola. E la Juve vuole nel suo futuro Chiesa e Zaniolo. E ancora vediamo l'esclusivo ai piani del CT. La lista Mancini qua gli ha i 18 talenti. E infine a Serie A femminile Scudetto, Inbirico, Scivolò e Juve, Milan, Piomba a meno due. E nella parte bassa della pagina si parla di Volley Femminili Challenge, Triunfo, Monza, La Coppa e Sua. E con questa notizia terminiamo questa prima parte della rassegna stampa tutta dedicata all'informazione nazionale. Vi lascio a qualche momento di pubblicità ma ritorniamo subito dopo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus. Un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta-Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex San Goben Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. E ritorniamo in studio per vedere quelle che sono ancora le notizie in primo piano, però questa volta dalle testate online. E partiamo subito con una notizia che riguarda il mondo della salute. Apple Watch è il tempo del cuore. L'orologio, infatti, a quanto pare, fa l'elettrocardiogramma. La nostra prova, la prova fatta appunto da Quotidiano La Repubblica, arriva infatti in Italia il sistema di monitoraggio cardiaco della mela. L'abbiamo provato. Ecco come funziona. della bella del San Raffaele, un alleato formidabile per medici e pazienti. Insomma, una tecnologia che sembra essere sempre più a servizio dei cittadini, della salute, del benessere e sembra una svolta proprio di quelle che si suol definire epocali. E infatti l'unione con il corpo umano è il nuovo orizzonte delle tecnologie. C'è un collegamento sempre più stretto tra i dispositivi che usiamo tutti i giorni, la loro evoluzione e la nostra fisiologia. E il mercato dei dispositivi indossabili, wearable, esplode. Tra queste categorie di prodotto, l'Apple Watch è il più venduto orologio smart al mondo e anzi, come non manca di ricordare il numero uno di Apple, Tim Cook, dal palco dello Steve Jobs Theater durante l'ultimo K-Note. E l'orologio più venduto in assoluto con l'introduzione della serie 4 di Apple Watch ha fatto il salto di qualità come dispositivo di monitoraggio. E insomma, adesso la tecnologia con questo semplice orologio, questo elemento così innovativo, ma nello stesso tempo semplice, ci potrà anche eventualmente salvare la vita. Ma sempre se dall'altra parte c'è qualcuno che effettivamente sa come usarlo e sa effettivamente che cosa fare. Insomma, attenzione, la tecnologia è sempre presa con le pinze e soprattutto con le dovute. Attenzione, perché non di generi. Ma ancora continuiamo a vedere i fatti che arrivano proprio dalla campagna e vediamo, come abbiamo già detto nei titoli di apertura del mattino, Napoli a Davide Donatello. Marina Confalone è la miglior attrice non protagonista, l'attrice dedica il premio alla nostra terra e neapoletani di buona volontà e lo vediamo proprio sul quotidiano. La Repubblica Marina Confalone vince appunto il Davide Donatello come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo nel film Il vizio della speranza. L'attrice esordì con Edoardo, protagonista della scena cult, con la lavatrice nel film Così parlò, bella vista. Si è commossa, ritirando il premio addetto, il regista Edoardo De Angelis ha raccontato La nostra terra, la campagna, dedico il premio proprio a noi, alla nostra terra, ai napoletani di buona volontà. Premio inoltre per la miglior fotografia Nicolai Bruel per Dogman. Insomma veramente tanti benefici e tanti premi soprattutto per questo territorio, sempre un po' vi ripeso. Ma ancora continuiamo a vedere le buone notizie che arrivano da Napoli. Napoli lungomare plastic free da maggio, multe fino a 500 euro. Ieri è stata firmata dal sindaco De Magistris l'ordinanza e dopo essere stato liberato dalle auto il lungomare di Napoli diventa anche plastic free. E infatti è stato il frutto di un lavoro degli uffici comunali coordinato dalla delegata al mare Daniela Villani con disposizione per contrastare l'aumento dei rifiuti in plastica nel mare. Dopo la proposta di direttiva della Commissione Europea approvate il 19 dicembre 2018 che introduce nell'Unione misure per la riduzione di questo tipo di rifiuti attraverso il divieto alla limitazione dei prodotti monouso non biodegradabili il Comune impone di non utilizzare, fornire e commerciare contenitori, stoviglie posate, cannucce e ogni altro manufatto monouso ad uso alimentare in plastica non biodegradabile e non compostabile. Insomma una svolta anche in questo caso proprio per questa materia così inquinante. Ancora vediamo le altre notizie. Camorra è il presidente della Camera FICO, vincere la lotta anche per Annalisa Durante. Ieri sono stati celebrati 15 anni dall'uccisione di questa ragazzina, 14enne all'ora e vittima innocente, uccisa proprio a forcella durante uno scontro a fuoco tra calanna rivali. 15 anni fa infatti moriva in uno scontro a fuoco tra calanna Annalisa Durante, vittima innocente di Camorra e i suoi cari tutta la mia vicinanza, istituzioni politiche, società civile devono essere coesi. La lotta contro la Camorra dobbiamo vincerla per Annalisa, per Napoli, per tutti noi e proprio quanto ha detto Roberto Fico da Napoli. E' insomma una vicenda che ha sconvolto tutti e che dopo 15 anni ancora lascia la mare in bocca perché questa situazione, le guerre tra i clan ancora non sono concluse. E poi vediamo una bella notizia che arriva dalle universie universiadi ma in particolare un focus su Caserta perché guardate questo titolo universiadi il campo di gara naturale più bello del mondo. La reggia di Caserta, la finale in una delle piazze più grandi d'Europa e la vediamo proprio ritratta in questa immagine. Sarà il campo di gara naturale forse più bello e sicuramente unico al mondo piazza Carlo III. Una delle piazze più grandi d'Europa antistante la reggia di Caserta si prepara ad ospitare il 12 e il 13 luglio la finale della gara di tiro con l'arco delle universia di l'evento sportivo secondo solo alle Olimpiadi quanto a discipline coinvolte che si trarà in campagna tra il 3 e il 14 luglio prossimi. E ancora continuiamo a vedere gli altri fatti in primo piano con il mattino e passiamo alla cronaca affari d'oro con i falsi Chanel nei guai 41 della banda. Si era creata una vera e propria organizzazione che dalla nostra provincia stiamo parlando di Salerno ed estendendosi in tutta Italia si occupava della contraffazione del marchio Chanel così come ricostruito dalla DDA di Salerno che ha chiesto un rinvio a giudizio per 41 imputati. L'udienza preliminare davanti al gruppo Alfonso Scermino del Tribunale di Salerno è fissata per il prossimo mese di maggio a partecipare attivamente all'associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione di marchi, commercio di prodotti, consegni distintivi, falsi e ricettazione ci sarebbe un imprenditore di Angri. Era questo imprenditore una donna secondo le accuse che produceva attraverso la sua ditta i marchi contraffatti. Il coinvolgimento dell'imprenditrice Agnese venne alla luce sin dal 2017 quando venne appunto un intervento della Guardia di Finanza che scoprì questa vicenda. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Vediamo da Ponticelli al cuore di Napoli per vendetta dopo una lite ha arrestati sei uomini del comando della stesa a piazza Trieste e Trento. E infatti vediamo proprio i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a un decreto di fermo emesso dalla direzione distrettuale antimafia dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli a carico di sei persone di cui una minorenne. Ritenute responsabili di detenzione e porti illegali d'arma da fuoco spari in luogo pubblico e danneggiamento reati aggravati da metode e finalità mafiose per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del clan camorristico dei minichini di Luca Bossa e per mostrare superiorità nei confronti del clan Mariano. Una vicenda che aveva fatto tanto discutere per la cruenza e soprattutto perché era avvenuta in un luogo pubblico. Questo è ancora peggio di qualsiasi altra situazione perché aveva messo a rischio tante persone. E ancora vediamo, continuiamo sempre sulla cronaca da Napoli noi gente del Bronx di San Giovanni, Diego e il C'è non ci hanno salvato. Ovviamente si riferiscono alle immagini che sono state realizzate sui palazzi da Giorit, ma vediamo infatti Nandino si affaccia al suo piccolo balcone a quarto piano per fumare una sigaretta e sembra spuntare un brufolo sulla guancia destra di Maradona, un fruncolo rosso tra i peli bianchi della barba. Dal piazzale un amico lo avverte del fotografo e lui ovviamente si ritrae, come dice qua, scornoso. Chissà in quanti scatti è finito questo padre di famiglia in ciabatte che nelle due stanze del suo alloggio popolare condiviso con moglie e tre figli non può fumare e cerca una via di fuga. E c'è vita dietro i murales, si compone con una stanchezza che i volti di Giorit non riescono a dire. Si anima nelle pieghe di una faticosità e faticosa promiscuità 1700 persone stipate come cardellini in una caiola lungo l'infinito palazzo di quell'edilizia e doveva costruire comunità, ma in realtà ha costruito gabbie. E' appunto questo l'allarme che viene lanciato dal mattino nonostante le tante opere d'arte, nonostante le azioni che vengono compiute per porre in risalto determinate situazioni ciò che è alle spalle di queste realtà rimane comunque qualcosa di misto alla gabbia, alla paura e soprattutto alla sopraffazione. Ma ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano a Riviera di Chiaia si allarga il cantiere del metro effetto imbuto in direzione Piedigrotta infatti vediamo proprio un'immagine del lavoro in corso e si allarga questo cantiere del metro alla Riviera di Chiaia per 15 giorni la carreggiata da Vico Serra a Piazza della Repubblica sarà ridotta a soli 4 metri per realizzare gli schiavi dell'impianto antincendio a servizio della stazione Arco Mirelli della linea 6 autobus e camion diretti verso Piedigrotta saranno costretti a passare tutti per lo spiraglio già stretto antistante la villa comunale insomma una situazione un po' complicata molto complicata soprattutto per chi comunque si trova a vivere Napoli nelle sue sfaccettature ancora andiamo a vedere Caserta News vediamo le notizie in primo piano cronaca soldi di Zagaria chiesta la condanna di Giuseppe Inquieto il PN ha invocato 6 anni richiesta di giudizio per Inobis e Rita Fontana infatti chiesti appunto 6 anni di condanna per Giuseppe Inquieto e di rinvio a giudizio per Salvatore Mario e Giovanni Inobis oltre che di Rita Fontana questa la richiesta del pubblico ministero nel corso dell'udienza preliminare celebrata dinanzi alla 26esima sezione GUP del tribunale di Napoli 5 erano stati tutti coinvolti nell'inchiesta sul riempiego del denaro del boss Michele Zagaria per cui Nicola Inquieto fratello di Giuseppe ritenuto dagli inquirenti come colui che avrebbe investito i soldi nel capoclan in Romania e sotto processo al tribunale di Napoli Nord e ancora andiamo a vedere le altre notizie in primo piano ancora una volta cronaca furto alle spalle del monumento ai caduti di Caserta quattro arresti blizza ieri delle volanti dopo segnalazione al 113 agente ferito durante l'inseguimento e infatti una telefonata forse può allungare la vita così inizia proprio quest'articolo così come recitava un noto spot pubblicitario degli anni 90 ma sicuramente può permettere di fermare dei ladri in azione come è accaduto a Caserta dove gli agenti della squadra volante della Questura sono riusciti a fermare quattro persone tutte di etnia a Roma che erano intente a rubare il motore di cavi elettrici ubicati alle spalle del monumento ai caduti in Viale Unità Italiana la telefonata che segnalava la presenza degli individui alle spalle del monumento è giunta alla polizia pochi minuti prima delle 14 le volanti dirette dal commissario Michele Pota si sono portate sul posto ed hanno immediatamente rincorso i ladri che avvisati da una donna che stava facendo il palo hanno immediatamente mollato gli attrezzi del mestiere e sono scappati ma la loro fuga è durata ben poco in quattro, compresa la donna sono stati fermati dopo l'inseguimento mentre un altro è riuscito a fuggire insomma un plauso alla polizia di Stato ma anche a chi ha segnalato questo evento insomma cerchiamo comunque di stare attenti di aprire gli occhi e di vedere quello che succede proprio nella nostra città e anche per questa mattina la rassegna stampa termina con questa ultima notizia vi ringrazio per essere stati con noi ringrazio come sempre Tecno Campus che ci offre la possibilità di dare l'informazione in tempo reale e soprattutto il mio invito si rinnova per la giornata di domani continuate a seguirci l'appuntamento è alla stessa ora il canale è sempre questo Teleprima canale 91 digitale terrestre è in streaming su www.teleprima.it a voi tutti una buona giornata e a domani a voi tutti una buona giornata questo programma è stato offerto da Tecno Campus a voi tutti una buona giornata a voi tutti una buona giornata a voi tutti una buona giornata